E' grande festa ieri sera all'Aranciara di San Sisto a Roma per l'olio extravergine della Sabina prodotto di alta qualità tanto che dal 1996 l'Unione Europea gli ha riconosciuto la denominazione d'origine protetta la festa si è svolta all'interno della manifestazione non solo olio sostenuta dall'assessore alle attività produttive della capitale Davide Bordoni per tutta la serata, gare culinarie, degustazioni e piatti tipici conditi ovviamente dall'olio della Sabina Ed ora il caso